Quando una persona si chiude all'ascolto e al dialogo, il suo cuore si indurisce e perde la capacità di cogliere i segni del Padre Celeste, di aprirsi alla voce di Dio. È il monito pronunciato da Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Partendo dalle letture del giorno, il Pontefice ha chiarito che obbedire vuol dire avere il coraggio di cambiare strada quando il Signore ce lo chiede. Vuol dire aprirsi alle novità di Dio e non chiudersi nella testardagine, come i sacerdoti che ordinarono ai discepoli di Gesù di non predicare più il Vangelo al popolo. Questi non sapevano dialogare, non sapevano dialogare con Dio perché non sapevano pregare e sentire la voce del Signore e non sapevano dialogare con gli altri. Ma perché? E perché interpreti questo così? Soltanto interpretavano come era la legge per farla più precisa. Ma erano chiusi ai segni di Dio nella storia. Erano chiusi al suo popolo, al loro popolo. Erano chiusi, chiusi. E la mancanza di dialogo, questa chiusura del cuore, li ha portato a non obbedire Dio. Questo è il drama. di questi dottori di Israele, di questi teologi del popolo di Dio. Non sapevano ascoltare, non sapevano dialogare. E il dialogo si fa con Dio e con i fratelli.